ma salve buon godo dei d'estate incredibile durante il mese di agosto pazzesco assurdo dei ragazzi ben tornati in un nuovo episodio delle quattro chiacchi di godo pazzesco e assurdo incredibile spero che il vostro agosto stia andando molto bene spero sia godoso incredibile vacanze per tutti quanti incredibile le mie vacanze le basso qui dentro questo ufficio a creare vita per il godo verso incredibile però ripeto qualche giorno per dormire lo soffredo ragazzi inizierò a settembre che sto messo peggio di giugno e non fa bene incredibile oggi ho poco tempo ma video di summer slav carico e godoso parleremo appunto di summer slav 2024 l'ultimo pay per view targato da voi che sinceramente mi è piaciuto oh dai cavolo un pay per due bello non arrivato di resta del media come dicono alcuni non so dove siete ragazzi è stato un buon pay per due però per essere mia di quest'anno è stato incredibile ragazzi soprattutto il main event c'erano stati i risultati importantissimi primo farò tutti la night che il nuovo campione degli stati uniti finalmente la campione può sparire dal radar della wb e non tornare mai più per quanto mi riguarda incredibile brown breaker campione gunter campione naia jacks campionese un sacco di campioni nuovi incredibili il ritorno di roman rens e tante altre cose incredibili di cui parleremo in questo video incredibile spero di farlo un pochino più corto del solito ragazzi perché altrimenti non riuscirò mai a editarlo in calibre siga e si parte eccoci qua incredibile sulla nostra scrivania godosa incredibile partiamo subito con summer fan 2000 e 24 summer si apre incredibile con il match fra ria ripoli e morgan in calibre per il world heavyweight championship femminile non so voi però sinceramente il build up per questo match c'è ed è stato anche abbastanza spazi ragazzi sicuramente il fattore infortunio ha aiutato perché come sapete raiarito di sera infortunata dopo resta il mini il titolo è diventato vacante e dal in poi live morgan è entrata a far parte della giaccia main day passatemi termine tra un po di virgolette poi diventata campionista e tutto attorno gira dominic mistiro con ha un ruolo importante in questo match però ripeto se rea non si fosse infortunata prea probabilmente sarebbe rimasta campionessa e avrebbe perso comunque al summer slabs invece in questo modo ha avuto molto spazio perché ci sono stati quasi due mesi in cui la presenza di rea era abbastanza pesante lì per riuscita a colmarla incredibile quindi ripeto siamo arrivati a summer seconda un build up per questo match molto forte non si capiva se dominic misterio fosse ancora dalla parte di rea ripley o dalla parte di morgan era abbastanza scontato ragazzi ovviamente c'è una parte di me che vorrebbe urlare a dominic misterio in kayfabe concedetemi cosa hai fatto sei un pazzo capisco che lì morgan sia dannatamente attraente ma ragazzi da questa parte c'è mammy ria ripley ragazzi cioè come fai a non farti dominare da mammy ria ripley comunque penso gusti incredibile comunque dominic misterio chad incredibile arriva a samsung con l'idea appunto di continuare a essere da parte di ea secondo voi questo è un giudice tra il capo nel match ria è dominante per il 90 per cento del tempo ragazzi sembra di giocare al gatto al topo con il topo che lì morgan e il gatto che rea incredibile spot assurdo quando a certo punto rea si fa male alla spalla per finta perché ovviamente l'infortunio vero è stata guarita però nell'incontro fa finta di farsi male alla spalla e fa una delle cose più bad ass della vita ragazzi come fa non essere un waifu eterna lui a ripley non so se vi trovo la foto però praticamente prende la sua spalla la sbatte sul tavolo e fa finta di rimettersi l'osso a posto ragazzi cosa volete di più da una donna incredibile come reali tra l'altro il suo appa ira a sandra se ne verrà qualcosa di devastante incredibile quindi si rimette a posto alla spalla questa cosa ovviamente della spalla che tra l'altro non sarà l'unico match in cui farò battuto sulla spalla avrà a che fare nella storyline dell'incontro perché quando rea proverà a fare la sottomissione lì morgan non ci riuscirà libero uscire a scappare incognito a certo punto rea va in berserk modico di me prende la sedia voleva colpire lì viene salvata domenica di stiro come per dire no a rea poi farci dentro di e lì succede una cosa molto spagliata connette la sua finisce che si chiama oblivion e incredibile eroe a ripley fa kick out alla fine e qui c'è una piccola chicca per gli appassionati se vi siete sentiti le interviste di live morgan che ha fatto pure quest'anno lei era tutta orgogliosa del fatto che l'obbligo era l'unica finisce ridabile da qui al quale nessuna rest femminile riuscita a fare kick out e io è la prima che lo fa poi si scontano ancora un po magicamente la sedia torna sul ring e chissà che ce l'avrà mandata la sedia sul ring live fa un altro oblivion su ria sulla sedia e questa volta 1 2 3 live morgan rimane campionese fuori dal ring live morgan e domic si tirano fuori uno di quei baci sus che mamma mia e non sarà l'unico tradimento per quanto riguarda la judgment day della serata comunque a parte questo è molto simpatico ero molto preso dal feud era palese che lib vincesse però buon match sono contento che lib è pushata per la prima volta seriamente da quando è in wwe e in una storia è molto calda domini misterio gg se è l'uomo più odiato dell'universo ma va bene così perché circondato da un arm di ragazze che solamente lui se lo può permettere gg primo match molto buono dopo questo match piccola chicca per gli appassionati si vede damien priste che è arrabbiato nel backstage dice ah domini misterio ha tradito rea si imbalo rinterviene e dice stai tranquillo andrò a parlare io condommi in questo stile tu pensa al tuo match incredibile eppure qui film valor sta costruendo il suo teatrino sus dove poi tradirà damien priste però passiamo al secondo match brown breaker versus sam jane per il titolo intercontinentale grazie al godo mamma mia brown breaker è il nuovo campione intercontinentale ragazzi godo in una maniera assoluta per quanto mi riguarda brown breaker dovrebbe rimanere campione fino a prester mia per poi sfidare john cena e poi lì ovviamente sono gusti c'è una parte di me che essendo l'ultimo match john cena prester mia io mi farei vincere il titolo e tanto poi il bro break lo può vincere il pay per view dopo in questo modo john cena vincerebbe il titolo intercontinentale prima prima volta diventare gran slam champion e romperebbe il record di rick flair del diciassettesimo titolo e siamo a posto una perdita contro john cena può soltanto che bildare il bro break ancora di più però adesso deve rimanere imbattuto fino a prester mia per quanto riguarda invece è durato veramente poco molto di meno rispetto al match amore in the bank anche qui brown breaker che si fa male alla spalla però poi vince con quattro cinque spiari incredibili su semi se in godo tantissimo e per il resto il match è un match molto breve molto match alla row però sono contento per brown breaker ragazzi sono veri tantissimi adesso può fare un sacco di due match spicy cioè pensate a match con brown break contro scimus contro ludwig kaiser contro pitt dunn match intercontinentali belli tosti incredibili contro bronzo rick contro bronzo roma cioè tutti i match carichi incredibili quindi non vedo l'ora di vedere brown breaker in azione e per il resto molto carino che nel pubblico non so se vi trovo anche questa foto c'erano rick steiner e scott steiner appunto che nel pubblico erano tutti felici di vedere il loro pupillo incredibile che vince un titolo per la prima volta in dubbio da qui main roster perché vi ricordo che brown breaker ha già vinto due volte il titolo nxt se non sbaglio due volte e il titolo d'acting championship in nxt incredibili quindi brown breaker ha un futuro incredibile vi ricordo che ha 26 anni ok amici ci siamo capiti prossimo match la night vs logan paul mamma mia ragazzi questo forse è stato il momento di godo massimo di tutta la serata perché finalmente il regno dell'orrore di logan paul campione degli stati uniti per più di 300 giorni è finito una difesa del titolo in 300 giorni ragazzi se io penso che lo con paul si vanta pure sui social di essere nella top five campioni degli stati uniti di sempre della dubbi ragazzi io non so vorrei prendere questa penna e dipennare questa cosa dalla vita un po di stile death note se mi permettete perché io mi vergogno della dubbi che nella loro lista c'è il nome di logan paul ok voi mi direte vabbè ma l'hanno deciso loro di cosa ti lamenti avete ragione però da pubblico posso dire che mi ha fatto pagare con tutto il rispetto del mondo ok che logan paulo personaggio sus ti può stare simpatico non ti può stare simpatico è un grandissimo atleta quello che vi pare ma non avrebbe mai dovuto vincere un titolo voi potreste dire però è stata la pubblicità perché se c'è fatto a casa dal suo podcast ogni tanto andava con la città degli stati uniti e questo è l'unico motivo per cui hanno dato la cintura lo campo è solo pubblicità incredibile però con tutti gli scandali che ci sono stati di loro campo negli ultimi mesi che non so quanto sia convenuto ad abito a guidare un titolo importante allo campone io sarei molto attento se fossi ad abito a lui a dare altri video della loro campo io lo farei sparire per i prossimi decenni da fare scadere il contratto e poi lo farei sparire però quello sono io incredibile con un match molto ok scotte simpatici ne sono due che mi vengono in mente il moonsault strano di logan paul dove ha fatto moonsault reverse che è abbastanza spicy e poi quella specie di superflex di la night sembrava un brainbuster insomma cose simpatiche così per il resto un tizio fuori da lì di cui non mi ricordo il nome ma che è entrato con lo da foglio e lo metterò inedito incredibile dal tirapugna logan paul logan paul sta per usarlo sulla night la night lo frega incredibile gli fa la sua mossa finale la night campione degli stati quindi ragazzi è un anno che aspetta un titolo alla night ragazzi la night è incredibile è over nonostante la WP l'abbia fossato in maniera incredibile io vi ricordo che l'anno scorso doveva vincere money in the bank e bla 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 però lo sapete come la penso adesso è campione degli stati uniti per quanto mi riguarda potrebbe rimanere anche lui campione fino a prestemini e poi magari farò un match con John Cena però la night contro John Cena hanno pure un mini build up dell'anno scorso John Cena e la night quindi io lo farei un match fra la night e John Cena potrebbe essere abbastanza spicy a SmackDown sta iniziando un feud con Santos poi c'è Andrade Carmelo Esi insomma pure lui ha i suoi contendenti sono veramente contento che lo campo l'abbia perso mamma mia ma soprattutto che la night sia diventato un campione in WWE GG Bayley vs Nia Jax incredibile per il titolo WWE Women's Championship incredibile anche questo match ha avuto un risultato a sorpresa incredibile con Nia Jax che finalmente diventa la campionessa ma ci arriveremo tra poco intanto in questo match mi ha dato delle vibes parecchi anni fa ragazzi perché vi ricorderete che Nia Jax e Bayley hanno avuto un gran bel match a NXT vi metto qui un immaginino incredibile dove lì Bayley riuscì a sconfiggere Nia Jax incredibile con una sottomissione se non sbaglio quindi hanno provato a ricreare quel match dopo tutti questi anni ci sono stati spot anche qui simpatici Bayley che fa la powerbomb su Nia Jax vari kick out io sinceramente volevo Nia Jax campionessa perché pure qui la storyline con Tiffany Stratton io non so chi costruisce gli attire per Tiffany Stratton però ragazzi Tiffany Stratton è qualcosa di maestoso tra l'altro piccola chicca su Tiffany Stratton a parte essere giovanissima lei vorrebbe iniziare a diventare un'attrice di Hollywood quindi io prego la WWE di farla diventare campionessa e di fargli fare un match con Charlotte a Breast del Mania prima che lei comincia ad andare ad Hollywood perché altrimenti come dire vi giocate una delle atleti migliori degli ultimi anni si è creata questa specie di amicizia susso ora Nia Jax è anche campionessa quindi vedremo quando Tiffany Stratton tradirà Nia Jax per diventare campionessa ragazzi che è palese questa cosa però magari durerà qualche altro mese io sono curioso di questa cosa c'è anche stato lo spot dove Bayley ha provato la stessa sottomissione di allora ma Nia Jax è più forte adesso in colibri strong ed è riuscita a eliminare la presa di Bayley in confinita a un certo punto durante il match è arrivata Tiffany Stratton tutti pensano oh mio dio diventerà un triple trap match come l'anno scorso con Yoskai invece no Bayley si distrae viene colpita da due tre finisher di Nia Jax Banzai Drop Nia Jax campionessa incredibile anche qui ci sono dei match che vorrei vedere con Nia Jax campionessa contro Naomi contro Bianca Belair contro Jade Gargill insomma Chelsea Green insomma pure qui Nia Jax può creare dei match simpatici Bayley sinceramente sono un po' deluso da Bayley perché io adoro Bayley ma il suo regno titolato è stato veramente catastrofico perché è stato assurdo quando ha battuto Yoskai a prestemmia ma poi è stato un decadimento perenne tutti i match insignificanti zero build up lei che appariva rideva e scappava con la cintura che non l'ho capito dove è la Bayley forte e strong di quando ha attaccato Damage Control con Yoskai da Kotakai, Kai Sein quella Bayley l'hanno proprio sei volta non si sa che fino affatto incredibile secondo me è una di dare a Bayley di nuovo la sua gimmick degli abbracci incredibile di mandarla in NXT per un po' di tempo come hanno fatto con Bay Green per poi magari farla risorgere alla Royal Rumble comunque per adesso hype per Nia Jax e hype per Tiffany Stratton passiamo ai tre match finali di SummerSlam incredibili primo match Drew McIntyre contro CM Punk allora io vi avevo detto nello scorso video che il mio hype nei confronti di questo match stava calando lentamente perché cominciavo a avere paura che sì c'era molto build up, un incendio di build up per quanta carne hanno messo al fuoco però poi avevo paura che il match in sé poteva essere un po' una ciofega e invece CM Punk è riuscito a farmi ricredere perché nonostante la sua veneranda e taff incredibile nonostante essere il primo match di CM Punk in un decennio a parte la Royal Rumble, mi intendo sono contento di vedere CM Punk in ring è rimasto atletico come al solito riesce a fare ancora spot simpatici tutto questo match con Seth Rollins arbitro era un'enorme citazione, un match storico della WWE Undertaker contro Bretard con Shawn Michael che faceva il guest referee se non sbaglio proprio a SummerSlam 1997 quindi anche negli attari di CM Punk è deduciare la citazione a Bretard appunto e Undertaker incredibile io pensavo che tutto l'incontro che fa adesso Seth Rollins farà questo darà la vittoria a Punk oppure a Drew insomma me lo aspettavo un Seth Rollins piccante che tra l'altro non potrà combattere per un po' perché è ancora infortunato da quello che si dice online il motivo per il quale Bronson Rida Raw ha distrutto Seth Rollins è perché il suo infortunio sta diventando cronico e dovrà sparire per un po' dei mesi spero che si riprenda incredibile comunque un match simpatico vorrei vedere a Bretton Media se in Punk contro Seth Rollins il feud continuerà tra loro due probabilmente a Elina Sell il match in sé ok? è il classico match alla CM Punk di EIW o sarei dire carino il kick out della mossa di Drew il kick out della mossa di CM Punk però più che altro questo match era più uno storytelling continuo a un certo punto Drew prova a colpire Punk con la sedia Rollins la prende sta per colpire Punk quindi Punk comincia a pensare ah ma allora Rollins è della parte di Drew non vuole dare la ragione a me finalmente Drew sta dando fastidio a CM Punk infatti c'è tutta la scenetta del braccialetto che prima glielo leva poi se lo prende Seth Rollins con la scena fighissima di quando CM Punk sta per vincere ma vede che Rollins ha il braccialetto quindi comincia a pensare veramente ah ma tu sei dalla parte di Drew McIntyre non mi dovresti dare a me il braccialetto si distrae poi c'è il KO di Seth Rollins Drew gli fa la mossa finale con un loblo come CM Punk l'ha fatto proprio a Drew qualche mese fa un'altra claimo e Drew McIntyre sconfigge finalmente CM Punk sono felice per Drew perché dopo tutti i mesi del merda che c'ha avuto finalmente una vittoria incredibile sono contento carina la GTS di CM Punk sul set Rollins per far capire che il feud tra loro due probabilmente continuerà il prossimo anno quando appunto se Trollins tornerà a poter gareggiare sul ring è incredibile ripeto il feud continuerà probabilmente a Elina Selle che probabilmente sia in party che vincere e poi faranno il terzo match a Survival Series magari se è una cosa incredibile avrei voluto da questo match qualche spot un po' più violento sai no un classico tavolo dei commentatori che si distrugge qualcosa di più spicy però è anche vero che gli spot più seri se li sono tenuti per il main event con Cody Rhodes e solo è un bloodline rules match quindi ha senso questa cosa dunque match buono soprattutto lo storytelling incredibile penultimo match Gunther vs Damon Priest per il World Heavyweight Championship incredibile Gunther ha vinto il King of the Ring Damon Priest adesso l'hanno fatto diventare super babyface match tremendamente violento c'è una scena assurda che mi ricordo di questo match cioè Gunther lo sapete è famoso per darle chop e per fare male al petto ai suoi avversari ma a un certo punto in questo match Damon Priest comincia a pestare così forte Gunther che questa volta è Gunther da sanguinare è incredibile questa cosa kick out di powerbond di chokeslam pure qui avrebbe avuto qualche spot un po' più tosto però ripeto se li sono tenuti tutti per il match finale con solo e Cody Rhodes sta per vincere Damon Priest arriva Finn Balor e poi tra l'altro prima di dire di Finn Balor la gente si è dimenticata di quanto Damon Priest sappia essere un buon wrestler quando l'altra volta mi vissi che era un campione di carta è perché purtroppo Damon Priest non l'hanno obbligato manco per niente adesso che la cintura c'è la Gunther Gunther è un campione assurdo già solo così cioè Damon Priest è stato campione perché tutti gli altri attorno giravano attorno a lui è un po' di un dispiacere che non hanno mai creduto in Damon Priest come campione secondo me l'hanno messo sempre al secondo piano di altre storyline più importanti a Raw questo era quello che intendevo l'altra volta a un certo punto arriva Finn Balor Damon Priest fa le mosse finali su Gunther a un certo punto 1-2 Balor prende il piedino di Gunther lo mette sulle corde incredibili Damon Priest non si accorge di niente allora guarda lo schermo si accorge che Balor l'ha tradito sta per colpirlo Gunther lo ciocca da tiro incredibile con una slipper hold pazzesca e assurda Damon Priest si libera sta per connettere un'altra finisher su Gunther Finn Balor si intromette in nuova a questo giro a Damon Priest lo prende per il collo incredibile Gunther ne approfitta powerbomb slipper hold e Gunther è il nuovo campione incredibile con Balor che guarda disgustato Damon Priest come l'anno scorso a SummerSlam Damon Priest col fatto del Money in the Bank aveva fatto perdere Balor la title shot al titolo World Cup di Seth Rollins dopo un anno Balor si è vendicato come una serpe incredibile infatti a Raw è nata la judgment dei 2.0 con Finn Balor JD Madona Dominic Mysterio Liv Morgan e Carlito che mi fa ridere che Carlito l'hanno ficcato dentro perché non sanno che faccio con Carlito e Babyface Damien Priest e Babyface e Ryan Ripley combatteranno la judgment per i prossimi mesi incredibili per quanto riguarda Gunther adesso sfiderà Randy Orton a Bash of the Berlin incredibile con Gunther che distruggerà Randy Orton e poi sono sicuro che Randy Orton diventerà Kill e attaccherà Cody Rhodes perché io voglio vedere un match fra Cody Rhodes e Randy Orton per il titolo con Randy Orton Kill per il resto Gunther non vedrò di vedere il match con Drago uno più con Scimus ragazzi ma che ve lo dico a fare Gunther è assurdo a me basterebbe che rifacessero tutti i match che hanno fatto per il titolo intercontinentale con Gunther versione World Heavyweight Championship è stato a posto per i prossimi anni Main Event Cody Rhodes vs Solo Skoa Bloodline Rules Match questa è la versione parocca del match che c'è stata a Presta e Mania in pieno stile Bloodline Rules per il WWE Championship solo Sokoa non vincerà mai il titolo così importante in WWE però potrebbe vincere un titolo degli Stati Uniti secondo me dalla Nike in futuro per quanto riguarda il match è lo stesso match di Money in the Bank tagliato solo la parte di Cody Rhodes e Solo Sokoa un po' slow Cody Rhodes forse che cerca di dare un po' di momentum ogni tanto poi cominciano ad esserci gli spot Susse con i tavoli le sedie cose incredibili ma a un certo punto arrivano Tangaloa e Tamatonga incredibile che riesce a fare un altro bocce incredibile io capisco che aveva una benda proprio dentro e non ce ne diva però ragazzi è un meme ma 5 l'uomo ragazzi ho veramente il terreno che lo licenziano io spero non lo licenzio però un po' di concentrazione ragazzone te prego ritorno a Randy Orton e Kevin Owens fanno piazza pulita incredibile arriva il Chad che lo sapete che Chad è Jacob Fatou ragazzi è incredibile super chicchio per tutti fa lo spot sul tavolo e qui arriva la chicca per fare in modo che non ci fosse un'interazione fra Jacob Fatou e Roman Reigns si sono inventati che Jacob Fatou si è infortunato quando ha fatto lo splash sul tavolo ha battuto il piede e infatti c'è tutta la scena di lui che soppica allora qui ci sono due idee ci sono quelli che pensano sia un work e quelli che pensano che non sia un work di fatto Jacob Fatou connette lo splash su Cody Rhodes si fa male al piedino lo portano fuori incredibili e è certo ritorna lui ragazzi Roman Reigns incredibile io penso che la WWE si sia bagnata in una maniera tramorosa perché per anni hanno provato a bildarci Roman Reigns come il babyface assoluto e il pubblico l'ha fischiato sempre adesso è tornato come tribal chief original pazzesco assurdo il pubblico l'ha adorato va sul ring distrugge solo sua coa e Cody Rhodes tince con Roman Reigns che guarda Cody Rhodes come per dire quando avrai finito con solo tornerò a prendere la mia cintura incredibile se volevano rendere solo Sokoa un nemico vero per Cody Rhodes dovevano fare una cosa molto semplice vi ricordate quando l'anno scorso Solo Sokoa ha sconfitto il gionzina con tipo 27 colpi incredibili di pollice pazzesco dopo quel match la WWE non ha detto allora buildiamo solo Sokoa con un mostro per poi fare tutta questa storia che c'è adesso no non lo hanno fatto combattere per tipo mesi lo hanno fatto perdere come un pollo poi è arrivata la bloodline 2.0 con lui a capo ma la gente non dimentica quello che è successo prima che la WWE cioè se tu me l'hai buildato come un passero come puoi pretendere che io possa credere che sia diventato a livello di Roman Reigns ragazzi sembra di vedere un personaggio a 99 che sconfigge uno a livello 1 cioè non è credibile per questo la gente crede in Jacob Fatou perché Jacob Fatou è quello che solo Sokoa non sarà mai sia per personalità per moveset per carisma per tutto ragazzi per quanto mi riguarda il vero match è Roman Reigns contro Jacob Fatou con Roman Reigns che secondo me dovrebbe perdere per fare in modo che Jacob Fatou diventi il nuovo Samuano leader per i prossimi anni in WWE perché di fatto è più giovane tolto solo Sokoa però successo ragazzi vedremo quando succederà ora qua di Rose a fronte da Kevin Owens Roman Reigns solo Sokoa probabilmente un Elina Sel pazzesco assurdo ragazzi che cosa è con voi noi ci vediamo prossimamente con tanti nuovi video chiacchiere di godo antishow tante cose belle epiche incredibili per quanto riguarda la WWE ci vediamo a Beshot e Berlino incredibile prossimamente no prossimo mese mi sa che c'è non mi ricordo la data incredibile ragazzi vi ringrazio di cuore che cosa sia con voi e ci vediamo al prossimo episodio ciao